830 chilometri in due settimane. 14 tappe da Somma Lombardo a Roma lungo la via Francigena in Endbike senza automezzi di supporto. È la sfida che porterà Pietro Scidurlo, fondatore della Onlus Free Wheels e altri quattro compagni di viaggio a transitare anche sul territorio piacentino lungo le rotte dei pellegrini. L'anno giubilare della misericordia e l'anno dei cammini annunciato dal ministro Franceschini saranno per loro l'occasione per fare la fotografia della situazione dei tragitti attraverso gli occhi di persone con esigenze speciali per cercare di rendere uno degli itinerari storici più importanti d'Europa un vero e proprio cammino dell'accoglienza aperto a tutti. L'iniziativa è promossa dai parlamentari dell'intergruppo via Francigena che faranno da sostenitori e testimonial nei territori attraversati. Lei onorevole sarà direttamente coinvolto in questa iniziativa, vero? Sì, perché questa avventura, questo attraversamento di tutta la via Francigena fatta da questo ragazzo e quattro accompagnatori Pietro Scidurlo comprende 830 chilometri in varie tappe. Una delle tappe dove loro si fermano è Piacenza e quindi si è deciso insieme a diversi colleghi che ci sia un parlamentare che lo accompagna in ogni tratto e facilita la visita a livello di contatti, di logistica e così di fargli trovare un territorio accogliente. Il percorso piacentino è ancora da decidere, dipende dalle condizioni dell'altezza del Po, se faranno il guado di Sigerico o comunque entreranno ovviamente dalla parte pavese, loro arrivano da Pavia sostanzialmente e quindi attraverseranno i comuni di Calendasco, Rottofreno, Piacenza, Ponte Nure, Cadeo, Fiorenzuola e Al Seno. L'iniziativa sarà anche l'elemento centrale delle manifestazioni per il quindicesimo anniversario di fondazione dell'Associazione Europea delle Vie Francigene che verrà celebrato il 29 aprile a Palazzo Farnese. L'associazione dei 103 comuni, province e regioni che da Canterbury a Roma stanno promuovendo la francigena. Uno degli elementi importanti dell'attività di questi anni, sia del passato ma soprattutto del futuro, è il tema Via Francigena per tutti.